FANTOM OF THE KILL FANTOM OF THE KILL DEDE SARI ANGELO567 DEN MICHIHA 90 PIRITO101 SORA GAN E adesso cominciamo FANTOM OF THE KILL 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 Allora prima che cominci cambio la squadra perché c'ho delle unità a livello massimo quindi Vorrei cambiarle Così ne approfitto per aumentare le altre Vi starete chiedendo Perché aumento le stesse unità E perché così Le potrò evolvere E fare il limit break Per mandare le unità 5 stelle A un livello superiore Allora Madoka Magica Manco 59 giorni quindi c'è tempo Per fare tutti gli stage Episodio 3 ok Mi darà pure Un allazio lì quando finirò Allora scegliamo L'amico migliore E cominciamo Sicuramente ci sarà il dialogo quindi alzerò il volume Allora scegliamo 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 Multiplicare Allora scegliamo Allora scegliamo 75 minuti C'è l'altro, tu non sei un personaggio di questo mondo? C'è l'altro? La tua storia è una storia di un uomo, non è diverso. C'è l'altro, non è un uomo? C'è l'altro? La tua storia è dopo! Non è vero, non è vero, non è vero. 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 Non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. E finiamo in grande stile con l'abilità speciale. Perfetto, abbiamo finito. Non è vero. Non è vero, 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 non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero.